Perdonatemi, è colpa del vento freddo. Yoriko, non stai bene? Non è vero. Ti porto ad Akashima, ti cureranno. Prima dobbiamo andare in un posto speciale. Dove? Non molto lontano. E dopo, vi prometto, verrò con voi per curarmi. Bene. Ma se cominci a peggiorare, andiamo ad Akashima? Certo, signore. Sempre così risoluto. Dove si trova questo posto speciale? Vedrete. Non puoi dirmelo? È un segreto. Fai strada. Vediamo se state al passo. Attenta, Yoriko. Tempe. Sì. sapete dove siamo c'è un onsen qui vicino giusto eccolo vogliamo dare un'occhiata da vicino non è bellissimo sì perché siamo qui siete turbato spero non sia perché siamo venuti qui non capisco è così penoso vedervi oppresso dalla tristezza con lady sakai e il piccolino yuriko stai bene non è nulla solo un mancamento da quanto non mangi da ieri mi sembra aspetta qui cerco qualcosa non sono una bambina ti prego yuriko riposa un attimo qui come volete siete davvero gentile torno subito forse posso cacciare non c'è giallo lo porterò a yuriko per farla mangiare un po' il cavallo è sparito si è allontanata non c'è giallo non c'è giallo non c'è giallo Polveri ederme, è passata di qua. Il cavallo di Eletro è qui vicino. Il cavallo di Eletro è qui. Mi salutava, ma si allontanava. Dovevo raggiungerla. Ti porto a casa? No. Mia madre. Devo fare un'offerta per lei. No, non devi. Vi prego, per tutte le volte che ho fatto come avete chiesto, venite con me. Lasciatemi onorare la memoria di mia madre. Va bene. Ma non fare sforzi. Grazie. Grazie. Passeggiavo a lungo con mia madre su queste colline, imparando i segreti delle piante. Forse l'hai vista per questo. Ci siamo quasi. Grazie. Grazie. Un cimitero. La mia famiglia è qui. La mia famiglia è qui. La notte in cui mi portaste il piccolo Jean stava così male, dopo tutto quel tempo nella foresta. Noi avevamo già perso Lady Sakai. Kazumasa, mi ascoltate? Ti ascolto. Gli feci bere un decotto insegnatomi da mia madre. rimanemmo al suo capezzale tutta la notte. Mano nella mano. Vi ricordate? Sì. Mi ricordo. Quella notte avevo tanta paura. Ero triste per il piccolo Jean. Ma anche tanto felice. Questo fa di me una brutta persona. No. Quando lui si riprese... E mi insegnaste a cavalcare... Quel giorno andammo a Lonsen. Il tramonto era di un bello rosso acceso. Quello fu... Che cosa fu? Il giorno più bello della mia vita. È buio, Kazumasa. Ditemi cosa vedete. Riesco a vedere fino a Yarikawa. Ricordo la guerra. Una tragedia per tutti i clan. Il castello di Kaneda. Vorrei che non c'andaste così spesso. Perché dici così? Avete molte responsabilità. Sono grata del tempo che passiamo insieme. Ma non mi basta mai. Il tempio di Cursi. Si riesce a vedere la pagoda. A inizio anno pregavo sempre lì per voi. Per Jean. E per la mia famiglia. Jean è fortunato ad avere la tua dolce prima. Ora dimmi cosa vedi. Yuriko. Addio, Yuriko. La forza che ci occorre è già con noi. I potenti infine cadranno. E diverranno polvere nel vento. E riempi cosa vedi. E riempi cosa vedi. E riempi cosa vedi. La forza che vedi. E riempi cosa guida. E riempi cosa avrei. Grazie a tutti.